Ciao ragazzi, sono sempre io, Tuccio Lorenzo, qui su Tuccio TV, e oggi siamo qui per un nuovo video recensione, dove assaggeremo e visioneremo in esclusiva un'energy drink particolarissima. Stiamo parlando, ragazzi, della Red Bull White Edition. Questa bevanda, insieme a tutte quelle che compongono questa edizione, hanno dei gusti molto particolari, assai differenti rispetto alla Red Bull classica. Questo gusto in particolare contiene cocco e akaji. Non so se si pronuncia così, scusate se sbaglio la pronuncia, però appunto i gusti sono questi. Per chi non lo sa, l'akaji è una bacca brasiliana da cui si ricava un succo particolare, che appunto fa molto bene, fa ad antiossidante e ha molti benefici per il nostro corpo. Quindi, davvero, sono curioso di assaggiare questa bevanda qui. Prima però di aprirla, direi subito di visionare la lattina. Eccoci qua, ragazzi, come sempre con un bicchiere pulito, ormai di questi ne ho un'infinità, perché appunto devo farci le recensioni, e direi di aprire subito la lattina. Subito si sente un odore molto intenso provenire da questa lattina. Wow! Questo non me l'aspettavo proprio, è di un azzurro molto acceso, è un colore limpido, ma ha un colore simile a quello dell'anice, non so se avete presente i ghiaccioli. Giusto per farvi una piccola idea sul colore di questa bevanda, che davvero promette molto molto bene. Mi incuriosisce, perché io mi aspettavo una bevanda color trasparente, tipo bianco, no? Avete presente la gassosa? Ecco, quel colore lì. Invece questo azzurro mi ha stupito veramente, veramente tanto. Non me l'aspettavo proprio di questo colore. Quindi io non vedo l'ora di assaggiarla, e direi subito di provarla allora. Direi allora ragazzi di provare questa bevanda dal colore blu cobalto, perché davvero muoio dalla voglia di assaggiarla. Ragazzi, se ci crediate o no, questa bevanda è davvero sublime. Ha un gusto molto intenso, appena la si assapora, si sente subito la kaji esplodere in bocca. Nel vero senso della parola. Un gusto intenso e forte, accompagnato da un retro gusto al cocco che la rende ottima. Anche il rapporto frizzatezza-sapore è davvero equilibrato, perciò ragazzi, io non ho parole. Questa bevanda, davvero, è al top. Per ora è la migliore che ho provato. Ragazzi, sono davvero contento di questa bevanda, sono entusiasta di averla provata, perché davvero, questa Red Bull White Edition è imbattibile. Questo è un parere puramente soggettivo, quindi a me piace moltissimo, la definisco la migliore, invece magari a voi può non piacere, questo dipende da gusti, ma davvero, per me è il top. Se questo video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e mi raccomando, consigliatemi altri energy drink da recensire e da portare sul canale. Noi ci becchiamo alla prossima da Duccio TV. Ciao!